ola luciadores ben ritrovati dal vostro silver qui fuori sta nevicando che vien giù a pupazzi già fatti e cosa c'è di più bello quando fuori nevica a pupazzi già fatti che passare una bella giornata davanti alla playstation ecco passare una bella giornata davanti alla playstation magari col psn funzionante come sappiamo più o meno tutti abbiamo subito fra virgolette noi perché non ho direttamente questo attacco della lizard squad in teoria perché non ho ancora capito se è stato rivendicato o meno non seguo queste cose di fanta politica che ha praticamente buttato fuori uso i server sia dell'xbox che della playstation quindi non si può giocare online ok data di culo non si può giocare online quindi anche diciamo che io non ho la minima idea del fatto che potrò o meno pubblicare questo video lo sto girando ma non so quando andrà in onda diciamo lo terremo nel serbatoio del repertorio ok no 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 ok vai 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 per fietto e o cazzarola anche quelle in combo no 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 non mi ricordo più come cazzarola si fa posso dirvi che non mi piace per niente questo no allora cacchio sprite mi stai uccidendo le orecchie diciamo che non è il massimo vedersi quel messaggio che se ne esce alla fine della prova e soprattutto stavo dicendo non è il massimo il fatto che se non ti ricordi come si fa un'acrobazia questo livello non lo supererai mai io non voglio nemmeno fare quello che no no ok non voglio nemmeno fare quello che tenta di andare ad aprirsi il menù per per vedere se riesce a e cavoli a vedere come come si eseguono appunto le mosse in questione quindi ok dai che ce la facciamo no 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 il problema è che per eseguire una una mossa è abbastanza mannaggia la pupazza è abbastanza mettere ok perfetto è abbastanza mettere la moto leggermente fuori assetto che non no che la mossa non va a buon fine e tocca rifare tutto da campo è veramente odioso è ve lo confermo non mi piace per nulla questo questa modalità vedrete tante bestemmie del silver se non ci riuscirà a farla intanto col superman mi sto specializzando è la cosa più facile di questo mondo il going to hell ok dopo logicamente con la pratica si migliora però sono veramente tante le mosse da fare e tenere la mente tutte sinceramente non poi vedete magari si supera il livello perché per una mano fortunata ti capita due volte di fila la stessa la stessa evoluzione magari più facile non lo so non ci vedo troppo senso nella cosa non non mi esalta trovo ben più divertenti i livelli normali sono 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 veramente spaziali anche perché fondamentalmente qui si tratta di cavarsela in una maniera che anche fare i punti è dettato più che altro dalle mosse che capitano quindi non è prettamente una una figata ecco quando non mi ricordavo più che cavolo dovevo fare benissimo abbiamo beccato la medaglia d'oro benissimo ce lo siamo levati dalle palle perdonatemi il francesismo ma veramente non non sono le cose che mi esaltano di più abbiamo sbloccato la carnatura un po di soldini qualche medaglia e tanti ciao a questo livello ci preoccuperemo poi il futuro delle cose da fare benissimo siamo pronti per rombo nella foresta come al solito faremo il nostro primo giro di assaggio ci ritroveremo perché mi da questa ok possiamo concederci la roccia perfetto come sempre faremo la prima tornata di gara per conoscere i tracciati poi quando me li sarò dimenticati mirarò la medaglia d'oro e così via come al solito penso che ormai ci ritroveremo a fare i livelli quelli che faranno fare tante 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 bestemmie perché stiamo avanzando parecchio nel gioco e ci sono cose che ci sono cose che diciamo come quelle piattaforme in cui la moto deve fermarsi in verticale per azionarle sì buonanotte al secchio ecco il vantaggio del urca no no il vantaggio di determinate posizionamenti della moto è che puoi esatto anche scatafotterti così e puoi portarlo a termine lo stesso il tracciato cosa che invece quando mira la medaglia d'oro non puoi fare va bene ok anche la medaglia d'argento mi è sembrato fin troppo facile noi stiamo diventando gran bravi e su questo nutrirei dei dubbi perdonatemi come sempre il messaggio che esce a fine di ogni tracciato ma d'altronde finché i server sono down non si può fare altrimenti se voglio provare a caricare un video devo provare a girarlo se scoprirò che riesco a caricarvi lo stesso potrebbe arrivare qualcos'altro volevo fare tra l'altro una recensione di resogan perché in questi giorni mi è tornata la voglia di giocarci ed è un gioco che tutti i possessori di ps4 dovrebbero avere ma che difficilmente si vede trattato in giro perché è uscito per primo è uscito addirittura a livello gratuito per chi si iscriveva al psn il primo mese ahia il primo mese dall'uscita della ps4 ossia novembre 2013 e quindi è uno di quei giochi che hanno dovrebbero avere tutti ma che in realtà non si fila nessuno io per primo mi sono ritrovato a giocarci appena lo appena l'ho preso appunto dal psn ma diciamo che non mi aveva esaltato e avendo preso sia quello che kill zone che non è prettamente il mio tipo di gioco però mi serve un gioco mi serviva volevo un gioco per il momento per il momento dell'aggio della ps4 volevo un gioco e optare per kill zone quindi mi ritrovai due giochi che non mi avevano conquistato e ok e non giocai né a uno né all'altro accantonai assolutamente la ps4 per qualche mese tornai a giocare a dark soul sulla ps3 in attesa di dark soul 2 solo una volta finito dark soul 2 ho cominciato veramente ho cominciato veramente a dedicarmi la ps4 anche perché cominciava a avere giochi come in justice poi vabbè venne appunto il momento di piante contro zombie e via dicendo insomma ho cominciato tardi a usare seriamente la ps4 e questo resogan era caduto un po' nel dimenticatoio poi non so perché non so per come rispolverando appunto la ps4 e usandolo un po' di più ho detto concediamo una seconda scienza a questo gioco entrando nell'ottica delle meccaniche soprattutto il gioco essendo stato migliorato nel frattempo l'ho trovato molto più divertente molto più giocabile molto più godibile molto divertente con l'editor che permette di realizzare scaricare condividere anche le navicelle più fantasiose con un editor appunto come dicevamo benissimo fantastico bello intuitivo e allora mi sono detto dai che quasi quasi diamo un filo di ribalta anche un giochino che ne meriterebbe un po' allora vediamo se riusciamo a spazzare questo cazzo di muro sarà meglio che ricominci a parlare di questo di gioco ecco si può rimanere sgozzati dalla propria moto sì credo di sì penso che tra poco entreremo nell'ordine di quei tracciati che richiedono soffico eh però soffico che richiedono tipo 300 tentativi per essere portati a termine perché ricordatevi sempre che quello che voi vedete ora come una come una gara superficiale domani fra virgolette saranno quei tracciati in cui il vostro silver dovrà tentare di conquistare la medaglia d'oro quindi le bestemmie saranno pressoché garantite ve lo ricordo ora ce la siamo cavata con quattro tentativi voglio vedere quando dovremmo ricominciare tutto da capo ogni volta le madonne sconsacrate che voleranno in ogni dove benissimo andiamo alla prossima e poi magari riusciremo persino in questo video a scoprire cos'è quel triathlon che ci aspetta là sotto in fondo in fondo perché questo questo livello ha meno tracciati degli altri quindi potremmo fare una panoramica completa uh piove figata e c'è anche il divieto per le moto uh doppia figata ecco nel paciugo nel pantano non andremo assai lontano ok che poi giusto tocca bellissimo bellissimo il salvataggio più inutile della storia del cinema e vaffanculo no eh vaffanculo sa di fango ok bravo così ciù occhio che ti bagni sì certo come no vaffanculo il problema poi è che quando si sbaglia poi ci si ritrova a partire da fermi e che non è esattamente come partire non vaffanculo che non è esattamente come partire lanciati ok quindi adesso che andiamo così vado via lizzio ecco non sono riuscito a conquistare checkpoints ci ho provato ho fatto il furbo ma non è servito quando poi appunto ci sarà lo sbloccare la medaglia d'oro credo che odierò la vita fanculo ok vai vai ok no cioè io ve lo giuro ho assoluti fanculizzati ho assolutissimamente paura cioè no sarà improponibile ecco addirittura un'astronave ci si è schiantata sarà assolutamente improponibile andare a portare a casa una medaglia d'oro in questi livelli e conservare anche la sanità mentale prevedo lo sclero più totale ed assoluto anche perché come vi ricordo io nel frattempo farò in tempo a dimenticarmi tutti i tracciati perché la prima carrellata serve anche a quella serve anche a quello scusate tempio del titanio trova il flusso no no queste cose no queste cose brutte perfetto fantastico ok diciamo che le acrobazie sono un po' l'anima di questo gioco ma a me non è che sconfinferino troppo sarà che ci devo ancora fare la mano e avrei per assurdo preferito che fossero contemplate fin dal principio della partita non sbloccate dopo che ti sei fatto l'abitudine ad andare avanti senza fare nemmeno un'evoluzione di quale spaccone qui qui sarà divertentissimo conquistarsi l'oro delle evoluzioni perché giustamente adesso usando i checkpoint non c'è un gran bisogno di vaffanculo scusate non c'è un gran bisogno di fare il punteggio che ci occorre quanto di arrivare in fondo ok almeno questa così la portiamo a casa se no non se ne esce vivi oh mamma ecco tante volte poi si completa un trick assurdo e solo perché si è sbagliato l'uscita del salto non viene non viene nemmeno conteggiato se tutto va bene vi vorrò da un front flip magari avete fatto un'evoluzione da 10.000 punti e ve ne dà solo 150 ecco ho finito in un pozzo in faccia alla morte che odio vabbè niente è finito il tempo è finito anche il tempo praticamente del video tra poco scopriremo se sarà stato possibile però ecco una medaglietta l'abbiamo portata a casa solo nel prossimo video scopriremo cos'è l'ultima pista che ci attende e ammetto di avere abbastanza paura a riguardo come detto prima e tra poco scopriremo se sarò riuscito a caricare il video se ci sarò riuscito mi dovrete ritenere un eroe e mi meriterò doppia dose di pollicioni all'insù mi raccomando intanto io vi saluto e ci vediamo tutti alla prossima ciao a tutti dal vostro Sildare